Sono venitati che sono usciti a passare nella ferrovia, non li vediamo da qua, ma vediamo gli uomini che corrono in quella direzione, il loro obiettivo era questo, passare dalla ferrovia e raggiungere l'isla e il pochino dove ci sono, ma intanto ci siamo dovuti allontanare la situazione vera, pericolosa, finiamo ai migranti, sono state colpe a scegliere, bello devastare, pericolosa, nostre one, tre, fascino, analizzazione,illos expo a tutti i cari Grazie a tutti. Grazie a tutti.